Il conferimento della cittadinanza onoraria significa per noi soprattutto rinsaldare un rapporto tra la città e le forze dell'ordine che è sempre stato vivo e lo è stato ancora di più in questi ultimi anni. Grande cerimonia questa mattina a San Salvo, il Consiglio Comunale infatti ha conferito la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato. Una prassi simbolica per ringraziare i tutori dell'ordine costituito e per premiare il lavoro svolto su un territorio di confine come quello di San Salvo. Se non viene assicurata la cornice di sicurezza, la civile convivenza non si può svolgere. Un territorio come il nostro, che possiamo dire ancora sano, certamente molto esposto, ma ancora sano, può esserlo ancora di più se questo rapporto di collaborazione leale e di presenza sul territorio delle forze dell'ordine continua ancora per gli anni a venire. Il Comune però è stato beffato dal destino. Appena qualche giorno prima della cerimonia, programmata già da tempo, due carabinieri proprio della stazione di San Salvo, un comandante luogotenente e un maresciallo, sono finiti agli arresti domiciliari. Al giudice dovranno rispondere di peculato, accesso abusivo al sistema informatico investigativo, divulgazione del segreto istruttorio e porto abusivo di armi. Abbiamo delle attività di indagine in corso, vengono svolte dall'arma dei carabinieri sotto la direzione della procura e quindi non possono negare questo fatto. Speriamo di accertare quanto prima l'esatto perimetro dei fatti. Ma anche questa inchiesta non toglie nulla al valore delle azioni poste in essere dai carabinieri, dai finanzieri e dagli agenti di polizia di Stato. Sono certa che le cose verranno chiarite, la verità oggettiva verrà accertata dalla magistratura. Bisogna ripristinare nel nostro paese la cultura della legalità, anche ricordando a noi stessi intanto e anche agli altri che viviamo in un ordinamento in cui vige il principio di innocenza.